Il monastero di Santa Maria delle Vergini venne costruito nella prima metà del 1500 ma fu preceduto da altre esperienze monastiche risalenti al 1100. Nel 1525 accolse le prime monache che divennero sempre più numerose nei secoli successivi. Con le soppressioni napoleoniche avvenute nel 1807 e del governo italiano avvenuta nel 1866 le religiose furono confinate in un'ala del monastero dopo la confisca dei loro beni. Riscattato l'intero edificio sono riuscite negli ultimi decenni a rivitalizzare il monastero e a rendere meno stretta la loro clausura. La chiesa pur ricalcando l'antico impianto tardo quattrocentesco risalente al 1700 con decorazioni a stucco di un certo pregio artistico ha sull'altare maggiore una pala settecentesca raffigurante la madonna e il bambino san benedetto e santa scolastica opera di paolo de matteis e conservata anche l'icona linea della madonna dell'arco opera di scuola bizantina del 1300. Molto fine e delicata è la confezione da parte delle monache dei pizzi di cantù di vesti e paramenti sacri ornati in oro di ricami e di lavori di cucito squisiti i bocconotti dolci a base di ricotta quelli di pasta di mandorla e di latte di mandorla prodotti in estate. Vi è anche un laboratorio di restauro e rilegatura dei libri.